Una giornata molto emozionante, credo per tutti quelli che erano presenti, assolutamente sì, non solo per noi familiari. Non mi aspettavo che fosse ricordato con tanto qualore e con tanta stima una persona schiva e riservata e per niente arrogante, mite, come è stato mio marito. Eppure a distanza di 25 anni si ricorda ancora la sua persona, il suo valore, il suo operato. Il Presidente della Repubblica ha usato parole molto belle, ha anche rotto il cerimoniale, ha deciso di parlare anche se non era previsto. Mi ha fatto veramente molto piacere, è ancora una conferma della stima che chi ha lavorato con lui aveva di lui anche gli avversari, è un modo di fare politica che mi piace.